ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video della storia dei circuiti oggi andiamo a parlare come circuito il circuito che si chiama puk e koe park raceway questa è la mappa del circuito l'impatto sembra molto grande il puk e koe park raceway è un complesso sportivo comprendente un autodromo e un ippodromo che sorge a puk e koe nella regione di aukland in nuova zelanda oggi la struttura appartiene al puk e koe park limited il complesso è stato inaugurato nel 1963 per sostituire il circuito di ardmore il quale si trovava all'interno di un aeroporto per molti anni il circuito ha ospitato la 500 miglia benson e edges tra il 2001 e il 2007 ha ospitato il campionato supercars da 2013 dopo alcune modifiche al tracciato puk e koe ritorna nel campionato australiano nel corso degli anni il circuito e picco ippico sta perdendo attività a casa delle numerose competizioni automobilistiche che si svolgono sul tracciato decente nonostante ciò viene quotidianamente impiegato come stalla e struttura formativa il circuito l'attuale lunghezza è di 262 km non è tanto lungo rispetto all'originale di 35 km la visibilità del circuito è assai limitata a caso delle barriere armco è uno dei circuiti più veloci dell'emisfero sud dove è stato ricavato il tempo record sul giro di 55 secondi il lungo rettilineo ronduce a un tornante da affrontare a 50 km di velocità il buon inserimento nelle rettilineo di ritorno può determinare fortemente il risultato finale della gara la fia ha posto il circuito in grado 3 mentre il primo grado è su scala nazionale vuoto supercars questo è l'elenco dei vincitori di questa serie su questo circuito 2001 2002 2003 greg murphy 2004 jason bright 2005 greg murphy 2006 mark skype 2007 rick kelly e questo è stato il circuito puckekoe park resu e se il video vi è piaciuto mi trascano mi piace per questo video è tutto e non ci vediamo alla prossima ciao